Devo cambiare wifi. Ma voi quale avete? Quello che non salta. È lo stesso del vicino. Ma tu che wifi hai? Ma lo sai che è uguale al suo? Chi si ricorda? Non ho ancora avuto un problema. Ve l'ha consigliato Marta. Ma voi che wifi avete? Mi sfugge il nome. Quello che ci regge tutti. Tutti? Ma allora SkyWiFi. Passa anche tu a SkyWiFi e non ci pensi più. Chiamaci all'141. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.